Puntata di Polifemo, l'occhio di Abate di venerdì 31 luglio, ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre. Una puntata divisa in due parti. Una prima parte in cui parleremo dell'economia ionica e parleremo ovviamente della questione ILVA. ILVA sì, ILVA no, Taranto con l'ILVA e Taranto senza ILVA. Ma analizzeremo tutto il quadro socio, economico, produttivo, occupazionale della realtà ionica. Analizzeremo il rapporto della Camera di Commercio relativamente all'andamento dell'economia ionica nel 2014, nello scorso anno. Questo nella prima parte. Poi nella seconda parte ci soffermeremo, ci sarà uno speciale sulla pesca della UILA Puglia, di una conferenza, di un convegno organizzato dalla UILA, il settore agroalimentare della UIL, dedicato appunto alla pesca e la pesca riguarda tantissimo l'area ionica. Prima parte, dicevo, dedicata all'economia all'ILVA e ne parleremo con Tommy Lucarella, segretario cittadino di Taranto del Partito Democratico, con il professor Alessandro Marescotti, presidente di Peace Link, con un rappresentante del mondo sindacale, Francesco Rizzo, segretario provinciale di Taranto dell'USB e Dulcis in fundo, last but not least, con il dottor Michele Conte, lui rappresenta, iscritto a Federmanager, rappresenta e è il presidente del propeller club Taranto. Dunque una puntata ricca, economia, sviluppo, lavoro, prospettive occupazionali per Taranto. Non vi resta che mettervi comodamente in poltrona, azionare il telecomando del vostro televisore, ore 21, venerdì, lo ripeto, 31 luglio. Viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre.